Sono i tifosi dell'Accaria, bianco celesti, da questa parte i tifosi dell'Accaria, mentre dall'altra parte il bianco blu, vediamo se l'ero vocale può andare a riprendere, ecco, quelli sono invece i tifosi dell'arte vicino standarde, insomma. I caccedori stanno sempre leccendo per cento in campo e oggi ci spettiamo di vedere la partita. Io penso che se a questo territorio sono fatti di calcio, che siano veramente, insomma, un'altra parte di calcio, un'altra parte di calcio, un'altra parte di calcio, un'altra parte di calcio. Ragazzi, ultrata pedinica, ciao Andrea, ciao Dino. Quando è la pensione? La domona la pensione. Dino. L'amprisindaco! E vai! Grande tifo, grande tifo dello Sporting Accadia, grande tifo dello Sporting Accadia, vedete numerosi sono qui e non è finita perché poi andremo anche dall'altra metà degli sfalti. E didn't talk. Sanizzani! E i papà, unelo! E i papà, unguardo! Mi sono ragazzo! La partita in me stesso! voglio gli acculo mostri sulla gomma non prendi, voglio gli acculo sbagliare va, 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 va va, 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 va è morto 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 bravo Carlo bravo e qui siamo dall'altra parte qui sono gli ospiti praticamente gli ultrassi, i santacatesi e tutti coloro che fanno il tifo per l'artemisium come vedete anche qui numerosi devo dire siamo dall'altra parte degli spalti le pubblico femminile non manca quanta gente presente anche da questa parte pubblico femminile e gli ultrassi e gli ultrassi dell'artemisium ecco qui presenti chiaramente cerchiamo il gol cerchiamo il gol alla fine di questa partita di questo derby regionale andiamo 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 al Grazie per la visione!